Nanananananananananananananana Ciao ladies, benvenuti in un nuovo video Benvenuti In un nuovo video dove Apriamo un calendario dell'avvento beauty Ed è stato questo uno dei Innanzitutto l'anno scorso l'ho aperto per la prima volta Perché credo fosse proprio la prima volta Disponibile al mondo Ed è stato un calendario molto visto Molto, posso dire forse il più criticato E quest'anno ci ha Riprovato, io sono qui assolutamente Per vedere che cosa c'è all'interno Del calendario di Federico Fashion Style Se non conoscete Federico Fashion Style Basta fare una piccola ricerca su Google Comunque ha un programma suo Super seguito, parrucchiere Molto eccentrico, il salone Delle meraviglie, insomma L'anno scorso eravate abbastanza scioccati perché Abbiamo trovato all'interno dei cioccolatini In più dell'Eurospin, io sono stra curiosa Di vedere se ci sono anche quest'anno L'anno scorso però io avevo visto l'uscita del calendario Tramite, non so se era un IGTV Una diretta salvata, delle storie sue Dove non faceva vedere cosa c'era dentro Però diceva che c'erano cioccolatini E poi, boh, 9, 6, non mi ricordo Prodotti per capelli Quindi mi aspettavo, insomma Il fatto che ci fossero dei cioccolatini Sono rimasta per il tipo, no? Molto economico, da discount Insomma, che non associavo al brand Di Federico Fashion Style Anche se poi qualcuno mi ha scritto nei commenti Invece tipo di sì Invece quest'anno Non me lo sono spoilerato per niente Quindi non so Se ci saranno meno cioccolatini Se ci saranno tutti i prodotti capelli Quello che vi posso dire è che i prodotti per capelli di Federico Fashion Style Poi li avevo tenuti tutti quanti Quelli che avevamo trovato E li ho utilizzati tutti Nella mia Cioè, nella mia hair routine Durante il corso dell'anno Perché hanno una profumazione in particolare Molto buona Molto dolce Quindi comunque devo dire che Li ho provati e mi sono piaciuti C'era anche un buono Che però poi tra covid Eccetera Non ho utilizzato Se dovesse ritrovare il buono quest'anno Lo utilizzerei Cioè, mi impegnerei per utilizzarlo Veramente Iscrivetevi al canale Per arrivare a 350.000 Entro la fine dell'anno Ma manca poco Quindi secondo me Ce la facciamo anche prima Se non volete sapere Che cosa c'è all'interno Senza insomma Rovinarvi la sorpresa Qui vi dico che cosa ne penso Anche se Questo io l'ho ordinato Insomma Quando ho visto che era uscito Ed era in preordine Quindi l'hanno cominciata a spedire Dal 24 novembre Se volete partecipare Alla domanda misteri Quindi poi pescherò una persona A sorpresa Per farle un regalo di Natale Rispondete nel momento In cui faccio la domanda misteri Nei commenti Io direi di iniziare subito Quindi 3, 2, 1 Iniziamo Ecco qui Oh, pesa tantissimo Quest'anno il packaging Del calendario È completamente diverso Rispetto a quello dell'anno scorso Ma comunque eccentrico L'anno scorso forse Era ancora più eccentrico Perché c'era questo fiocco gigante Quest'anno c'è tipo un beauty In legno Che secondo me È pensato per essere riutilizzato Qui c'è il logo di Federico Fashion Style Con fondo oro Tutto specchiato E qui c'è una trama damascata Non so Perché io non guardo la tv Praticamente Quasi mai Questa è la stessa carta da paradi Del suo Salve delle meraviglie Più o meno Ispirata Potrebbe essere Non so se lo seguite E questo qui è il cofanetto Vi posso assicurare Che pesa tanto Qui c'è Vedete un piruletto Per aprire E aprendo No Non avevo letto No vabbè ragazzi A parte che c'è uno specchio oro No ragazzi Io lo guardo Cioè io lo amo Cioè questo specchio Che io spero che si veda Innanzitutto Non è che vi ci potete poi bene specchiare Però qui c'è scritto Sei pazzesca Federico Fashion Style Guarda questa cosa È talmente Trash Da essere meravigliosa Capito Sei pazzesca Trasuda Federico Fashion Style Da tutti i pori Qui Non so se avete sbirciato Ma Madonna ragazzi Pensa troppo Ci sono tutte caselle Numerate Nere Con i numeri oro Anche questa qui È una cosa super sua L'oro Lo so C'è molto a lui Il nero Quindi ci sta E poi vi dico Cioè vi rimane veramente È un beauty carino e grande Quindi se vi piace La trama e tutto Lo volete riutilizzare Sotto avete visto C'è un cassetto Con altre caselle ancora dentro Però sono tutte sparse Quindi semplicemente Io andrò a pescare E E vediamo cosa c'è dentro Dai Iniziamo subito Numero uno Mi sembra un prodottino Perché Mi sembrano tanti piccoli Potrebbe aver fatto Le mini size Dei suoi prodotti Non ho la più palida idea Vediamo Vediamo Eh ragazzi Sì Ha fatto le mini size Dei prodotti Quindi devo dire Che ha fatto Secondo me bene Rispetto ad avere cioccolatini E poi delle full size Anche se vi ripeto Le utilizzate Però almeno Per provare molte più cose Cioè immagino Allora questo è Dolls Che mi spacco ragazzi Che lui è Lui è Lui Cioè nel senso Il brand Ha preso tipo L'immagine di una brazza Per questo Shampoo Che si chiama O almeno della linea Dolls Sono 50 ml E questo qui è Shampoo delicato Per capelli sottili Fragili O con extension Chissà l'odore Sentiamo un po' No Vabbè No Amo senti Ti prego Amo senti Caramella Amo Amo troppo Caramello È buonissimo Io amo queste profumazioni Ed è rosa Raga vi giuro Cioè è rosino Comunque Allora Non per l'estetica Ma per queste profumazioni dolci I nostri gusti Si incontrano troppo Federì L'anno scorso La linea che c'era Che appunto mi sembra Angel Sapeva di vaniglia Di dolce Era veramente buono Ma questa È pazzesca Numero due Numero due Eccolo qui Vedete hanno Due, tre, quattro Non la stessa dimensione Poi c'è qualcosa Anche di più grande Un po' vi posso dire Volevo trovare i cioccolatini Cioè un po' mi dispiace Che non mi sembra ci siano Magari al 24 Boom Un mini panettone Pandoro Allora qui c'è il Relief Cleanser Post Service Shampoo Questo è Shampoo illuminante Per capelli normali Senza particolari problematiche Questo è il nome Niente braz qua Questo ha Questo ha il profumo Di quelli che ho Nell'anno scorso Di salone Però con una nota dolce Di vaniglia Poi numero tre Ah Purify Questo è uno shampoo Probabilmente per capelli Esatto Shampoo per capelli grassi Con forfra Con problemi cutanei Anche per uso quotidiano Comunque posso dire Sono molto Cioè Dietro quando leggi È molto diretto Devo dire Già dal packaging Appunto si capiva Shampoo per capelli grassi Solo che Siamo al terzo shampoo Al 3 dicembre Ora me ne sto rendendo conto Un po' troppo Attaccati Ma non è che troviamo Tipo shampoo Poi tutti i conditioner Poi tutti Spero di no 4 dicembre Chissà se c'è qualcosa Speciale natale E abbiamo un altro shampoo Cioè tipo solo shampoo All'inizio Ok Questo è il luxury gold Ed è uno shampoo Anti-age Shampoo nutriente Per capelli Normali spessi Molto danneggiati Ok Anti-age Quindi Immagino anche magari Per chi ha i capelli Grigi Bianchi Che comunque Proprio come struttura Del capello È diversa E se avete almeno Un capello bianco Lo sapete Lo sentite È diverso Numero 5 A questo punto Sapete cosa è Uno shampoo È la stessa identica cosa Raga Cioè È di nuovo La casella numero 1 È Cioè ora È sera Però sono fusa E vabbè Però Mi confermate Che è la stessa cosa Quindi Cioè ricomincio il gioco E qual è il 6 E qual è il 9 Boh Farò qui Vado a caso Potrebbe essere il 6 Potrebbe essere il 9 C'è qualcosa di diverso Però Forse è il 9 No no Vediamo Abbiamo Una maschera Della linea Luxury gold Quindi Quella anti-age Per capelli Molto danneggiati Maschera nutriente Per capelli Con il dosatore Comunque anche questo 50 ml Probabilmente tutto quanto 50 ml Che Va bene come mini size Numero 7 Dai raga Però non è possibile Sta cosa C'è di nuovo Lo shampoo anti-age Cioè È identico proprio Ma quante ripetizioni ci sono Allora Questo è La maschera Ah no Balsamo Primo balsamo Che troviamo È del relief treatment Quindi Abbiamo già trovato lo shampoo E adesso troviamo Il balsamo Con questa versione Così Con il dosatore Secondo me Da un certo punto in poi Si Non lo so Diventerà Interessante Hot conditioner Adoro raga Questa linea Con la brazza Mi spacca Balsamo Autoriscaldante Per capelli sottili Fragili O con extension Cioè capito Quindi questo balsamo Autoriscaldante Stranissima come cosa Molto particolare Come effettivamente Poi è Federico E i trattamenti che fa Quindi mi aspetto cose particolari Ci sta Allora Siamo arrivati a un momento topico Ok Perché abbiamo una casella Di grandezza differente Che è il 10 dicembre Il primo numero Con due cifre Ed è leggero Sembra morbido Ragazzi C'è il cibo Adoro Perché posso dirvi Che mi manca Cioè Mi manca Oh no Dai Che carina Maschera condizionante Mono uso Indicata per capelli secchi Sfibrati Con doppie punte Anche per extension Ha proprio la sua cuffia Qui sopra Si chiama Dolls Beauty Sleep Qui c'è la cuffia E qui c'è il prodotto Quindi metti il prodotto sui capelli Cuffia Vai a dormire A risveglio sciacquare bene i capelli Con abbondante acqua tiepida Se necessario Procedere con lo shampoo Carino Molto contenta anche Che ci sia Un intanto qualcosa così Di diverso Per spezzare E devo dire che Finora è Veramente un calendario Completamente diverso Dall'anno scorso Cioè Non Sto pensando ad altri brand Buddy Sto pensando ad altri brand No Sto pensando ad altri brand Che hanno fatto magari cose Completamente diverse Ma così netto Uno stacco così netto Non l'ho visto Quindi È il primo Numero undici Torniamo alle forze Mini size Abbiamo Di nuovo Abbiamo sia gli shampoo doppioni Ma anche i balsami Doppioni Relief treatment Balsamo Numero dodici È una casella diversa Perché è una casella Un po' più grande Quindi forse il numero dodici È un numero speciale Per Federico Andiamo a vedere Questo è un prodotto Che io ho Al bagno E che ho utilizzato Devo dire Un bel po' È molto pesante Soprattutto se avete i capelli grassi Cioè questo è proprio un olio Molto denso All'interno anche delle particelle Si chiama Ambrosia Ultra Shine Hair Drops Allora non so se il nome era Ambrosia Di quello che ho al bagno Però l'estetica era esattamente la stessa E sono Delle gocce Insomma Olio Che rendono i capelli molto lucenti Però attenti Se li avete grassi E comunque a prescindere Mettetelo sulle lunghezze Comunque è molto buono Cioè a me le profumazioni Molto molto buone Sapete qualora l'ho sentito? Pure i fai Per lo shampoo per i capelli grassi Che di solito è tipo Capito? È erba Ah Allora sento la menta Secondo me questo è uno di quegli shampoo Che quando te lo metti sulla testa Senti proprio il fresco 13 Ah questo pure è lungo Quindi da una certa in poi Mette cose un po' diverse Anche questo Non so Vediamo se è lo stesso Sì Hypnosis Sensual Hair Parfum È un profumo per capelli E questo qui devo dire L'ho usato parecchio Ce l'ho al bagno Ha lo stesso profumo Diciamo di questo qua Del relief treatment E Cioè si usa proprio Anche questo Poi tra l'altro Ha delle microparticelle Glitterini oro 100 ml Anche questo qui È spray Vado a mettere così Poco poco sui capelli Perché Io devo dire che I profumi che ho provato Per capelli finora Oltre a dare profumo Danno anche Cioè comunque hanno dentro Un po' un olietto No? Quindi se Andate con questo Non lo so Io se vado con questo Questo Poi alla fine Vi devo rilavare i capelli Quindi valutate voi Però sono dei prodotti Che mi sono piaciute Per la profumazione Mi è piaciuto tanto Soltanto Occhio a stratificare Tutti questi prodotti In olio Perché poi Vi dovete veramente Rilevare i capelli Numero 14 L'avevo visto qua su Eccolo Ok Altro quadrotto Botto qua Ne sa che è uguale 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 È un'altra beauty slip Che sinceramente Questa cosa Le ripetizioni Non mi piace Speriamo che non ci siano Ripetizioni Anche di queste Di questi qui grandi Questo è velvet Ed è un fluido Ricco per capelli Che si mette Sempre alla fine Del Insomma Una volta che avete i capelli Dopo avete terzo Vaporizzare su lunghezze E punte Esatto Per uno styling D'impatto Sì Sempre comunque va anche A nutrire E stessa cosa Se mettete questo Poi non andate a mettere Troppe altre cose Questa è più in versione crema Ma va sempre applicato Con lo spray 16 e 17 No No È identico No Le ripetizioni di questi grandi No È identico raga Avete due profumi per capelli Qua c'è un discorso da fare Prendetelo in due Prendetelo in due E vi dividete le cose 17 Mini Purify Shampoo per capelli grassi Di nuovo 18 18 18 18 Cos'è che ancora non abbiamo In versione doppia Lo shampoo Relief Cleanser O ce l'avevamo già Ma se fosse il terzo Penso che posso morire Eh sì Mancava questo Mancava il doppione Del relief Cleanser E quindi anche qui Un altro shampoo Poi andiamo agli ultimi numerini Ragazzi Allora Non parlo al 24 No ragazzi Il terzo Quale Ti giuro È di nuovo Fallo da 12 caselle Fallo da 12 caselle Effettivamente C'ha ragione amico mio Cioè Sai cosa sembra? Non uno Non due Ma tre relief Cleanser Poi c'è Ok So 150 ml Alla fine Di questo shampoo Però peccato che ce ne avete 3 miliardi di altri Di shampoo Cioè questo non è un calendario Da prendersi da soli Secondo me Poi magari uno si politica la scatola Ma non è un calendario De prendersi da soli È il calendario Dei doppioni Tipo l'album delle figurine Collezioni di tutti Secondo me è pagato più di 100 euro Andiamo alle ultime caselle Numero 20 A questo punto Il conditioner Per i capelli grassi No Non ce l'avevamo Conditioner Quindi balsamo Per i capelli grassi Sempre in linea purify Non ce l'avevamo Ah Raga Domanda misteri Allora Siccome mancano le ultime caselle 21 Allora Secondo voi Meglio avere Tutte queste ripetizioni O vi mancano un po' I cioccolatini Dell'Eurospin Io voglio sapere la verità Se avete visto il video Dell'anno scorso Ma anche se non l'avete visto Avete capito L'anno scorso C'erano i cioccolatini Io Mi aspettavo I cioccolatini Cioè io li volevo Mi aspettavo Li facesse marchio suo Scusate se mi tocca i detti Ma ogni tanto Cioè mi aspettavo Li facesse marchio Federico Fashion Style Incartate con una carta Tutta specchiata oro Ne facesse di meno Cioè tipo che ne so Poche caselle No? Con i cioccolatini Magari anche un po' grandini Oppure più di uno Nella stessa casella Però me li aspettavo E non mi aspettavo Tutto questo Tutte queste ripetizioni A livello di pago 100 e passa euro E ho tutta questa roba Ovviamente a livello di prezzo Però se penso all'esperienza Non mi piace Quindi non lo so Forse degli extra Potevano essere carini Accessori Per capelli Però io questa cosa Di tornare indietro Sul cioccolatino Non l'avrei fatta Cioè l'anno scorso L'hai fatto L'avrei rifatto In maniera più bella 21 Io secondo me Qui c'è la terza Beauty Sleep E ho Come si dice Non c'è due Senza tre Vi faccio vedere Perché magari Cioè potete anche pensare Che non sia vero E stia ritirando fuori Sempre la stessa casella Ma no Sono tre Non c'è due Senza tre Il problema È che il quarto Viene da sé E la casella 24 È un cubo La lascio ovviamente Per ultima Andiamo alla 22 E 23 Maschera Luxury Gold Che abbiamo già trovato Un altro balsamo Della linea Purify E abbiamo la 24 Allora io Se c'è la quarta No Non c'è Non c'è la quarta Allora quindi Il massimo delle ripetizioni È tre Ok Eccolo qua Anche molto più bello Perché l'anno scorso Era in carta Invece qua È proprio una bella targhetta Federico Fashion Style Buono piega Valido fino al 31 marzo 2022 E c'è anche scritto Presso tutti i nostri saloni Guardate Spero si possa leggere Con 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 tutto il riflesso E questa volta Ve lo giuro Andrò a farmi la piega Da Federico Fashion Style Vediamo un po' Sono un po' Infatti Il beauty Se vogliamo che Poi vi rimane Quindi sotto Sotto vedete il cassetto E sopra Qua Che non è che si chiude benissimo Però magari ci mettete Una cosina E è tutto In legno Che dire È completamente O quasi A parte quattro caselle Diverso dall'anno scorso Completamente Non c'è cibo Non c'è cibo Non c'è cibo quest'anno E devo dire Però mi è mancato Perché questo è Il calendario Delle ripetizioni Cioè Troverete lo stesso prodotto A parte vabbè Tante mini size E Ha fatto bene Comunque a crearle Troverete ripetizioni Dello stesso prodotto Fino a tre volte E non solo di un prodotto Cioè le ripetizioni Sono per qualsiasi cosa Per qualsiasi prodotto Praticamente Tutti i prodotti i capelli Niente Extra Accessori No Letteralmente prodotti Per la pulizia E lo styling Dei capelli Over and over again Da sola Non lo comprirei mai Cioè L'ho comprato Però Non lo comprirei mai Perché Ci sono troppe ripetizioni Quindi questo qui Da dividere Cioè questo è Il calendario Da dividere Per eccellenza Però Come ha detto Un saggio Una volta Ovvero il mio amico Marco Dieci minuti fa Poteva essere Da dodici caselle Cioè poteva farlo Invece che da 24 Da dodici Però Sono anche una A cui Insomma I calendari da dodici caselle Non fanno impazzire Cioè preferisco quelli da 24 Però Prendere due calendari Da dodici Non è male Uno si apre un giorno Uno un giorno L'altro E arrivi comunque Alla fine del mese Cioè A Natale Che hai aperto Un po' e un po' Non lo so Non so che dirvi Sono sconcertata In maniera diversa Da come ero sconcertata L'anno scorso Ovviamente Poi sai cosa Ci sono veramente Tante linee Quindi qui ti fai Veramente un'idea Di Tutto Cioè se c'hai capelli grassi Se c'hai capelli fini Se c'hai capelli ultra danneggiati Il problema è che Hai capelli O grassi O molto secchi Quindi comunque Ci sono delle cose Che non usi Quindi a maggior ragione Secondo me questa è da dividere Le profumazioni sono sempre Molto interessanti Questa è una cosa Che li devo assolutamente riconoscere Perché Ci sono delle linee Che hanno una profumazione Che mi fa veramente impazzire E niente Io adesso Come al solito Non vedo l'ora di vedere I vostri commenti qui sotto Cosa ne pensate L'avreste comprato Lo comprerete Lo dividerete Let me know Soprattutto sono cose Di sapere se Vi aspettavate una cosa del genere Perché A me è totalmente scioccata Cioè già dalla casella Dalla casella numero 3 Mi sono iniziata a fare delle domande Io spero di avervi fatto compagnia So che eravate molto curiosi Di vedere cosa c'era Nel calendario di Federico E le mie reazioni Ovviamente Vi aspetto come al solito Su TikTok e Instagram E noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo video qui sul canale Bye ladies See you soon Ciao